Lanza, Levo 6, a tutte le altre vitture che una buona volta ci attenereranno qua, sul tracciato dell'Ovalda di Noglio, con un RG Wessinger, ce n'è, Malasso in pista, il pilota che guida a queste parti è molto conosciuto, il pilota 4 di R5, pronto a scatenare a lungo il tracciato dell'Ovalda. Seguono anche altri titolari, ma neanche la Renault Mio N5, una delle novità della casa della Rosanga Francese, che lo sa perché vede nei rally e che ha dato la possibilità a tanti di producciare l'Ovalda di Noglio, e quindi è un cagliasso, anche lui nella festa, la grande festa del motorsport, poi c'è l'amore franco, Mitsubishi, Lanza, Levo 6, pronto, una macchina amatissima, tantissimi sono gli appassionati che amano la Lanza, ma la gente che se la viene, come un'ora acqua, lo conosce, se ne ci sono andate, è veramente molto bella da pagare, e chi carabinia, tanto, si salva a me, tutto, la tagliatura, non ci portano, ci sono dei rinforzi anzi, la macchina è ancora una gran bella macchina a vedere. Il procedetto è pronto a entrare con l'ubbio, di R5. e ora c'è anche Maurizio Tortone una felma da 1.300 cavalli pronto a scatenarli sul tracciato dell'Oval